Oddio, cosa sono? Un magnifico e divertentissimo inseguimento con la polizia Ora dovrò andare a trovare la macchina giusta Perché come vedete ho una Nissan È la cosa, è la GT Non so se è tanto veloce, però Sì, possiamo dire che è veloce Andiamo a prendere questa macchina per fare inseguimento e partiamo Oh mamma Ah! Ops, scusi, non volevo Cosa abbiamo qui? La Marussa No, no, la Marussa no E vabbè, la Bugatti Ma posso guidare? Ma do se posso Posso guidare la Bugatti Ma no, non è oggi, giornata da Bugatti Ragazzi, dopo praticamente un'ora di ricerca Ho deciso di andare dentro qua E andarmi a prendermi la macchina Quindi sono deciso se prendermi o una Ford O una Lancia O una cosa, una Porsche Io direi di prendermi la 911 Turbo 3.0 Che è quella versione vecchia che mi piace un sacco Vabbè dai, facciamo un inseguimento con questo Caso a me il prossimo episodio Mi dite voi che macchina utilizzare Forza E buongiornissimo Porsche 911 Turbo 3.0 Ok, intanto cambiamo il colore Perché vi prego Oddio Ma no verde Ma che ti scongiuro Arancione Ma come? Bianca Vabbè Bianca accettabile Ok Quindi ora posso trovare la polizia E Disturbarla Facciamo per ora Facciamo i cittadini Rispettosi Sì Sì Appunto Nostra preda Scusi Posso passare Ecco Grazie Scusi Cestino Ehi Ciao Ti posso Grazie Ok Ah Furgoni Sempre in mezzo Ok E così ragazzi Inizia il nostro episodio Vero e proprio Siamo per di qua Sono bloccate Scusi Se volete Oh my god Guarda quella Oh mio dio Si è spento la macchina Ce n'è una qua di fianco a me Non si vuole svegliare Ok 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 Si sono svegliate Si sono svegliate Via 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 Cioè Non riuscite a prendere una Porsche 911 3.0 Si è proprio Non so cosa Dai Ma dai Tamponami Ma cosa Ma cosa stai facendo Sono inseguito dalla polizia Non me ne sbatte Oddio che luce Ma che cos'è sta roba Oh mio dio Si è salito di livello Mamma mia Oh Uno sbaramento stradale Che non serve a nulla Ma Porco cane Andiamo Madonna Quindi se noi Non andiamo giù Per di qua Cosa succede Un bel nulla Perché sono tutte drogate Queste cose Si corco Ma sei scema però Non so che cervello Abbiate voi Ciao Orco Scusa non volevo Perdonami Non volevo Non volevo Ah Ah Ma dai Ma ve l'ho fatta apposta Io non voglio uccidervi Ciao Cosa Oddio era fortissimo Quello che avevano fatto Uno sbarramento in corso Che forte Fate qualcosa di divertente Sennò diventa noioso Sto video Oh Buongiorno Ma sei cratina Come una rapa Però Ma cos'hai Secondo me sono tutti epilettici Poliziotti qua Perché non capisco Cioè mi stendo Oh 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 Oddio Oddio Ok Oddio Oddio Ok Ciao Come va la vita Quante ne sono morte Una L'altra È sopravvissuta Circa Io entro qua Io non ho parole Per quello che appena è successo Nemmeno in salita Che la Porsche 911 Non è tanto brava in salita Oh E invece Ah volevi Ah Lezza Uii Ah Eh Ah buongiorno Gente Olè Ci riesci Ci riesci Sì Circa Ci sei riuscita Brava Io do per di qua Non ti disturba Non è vero Ma devo spendere il motore O cosa Per farmi seguire da voi Devo dare di inerzia Ma dai Ma siete tutta cratina Come delle cose Dai Oh Dai Spingimi 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 Siete bravi Nemmeno a spingere Mamma mia Ma come volano Oddio Cosa sono Cosa ho fatto Oh mamma Eh no Questo non Secondo me Sono Sono diventati intelligenti In un colpo Tu mi fai male Tu mi fai male Ok Via 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 Sono diventati intelligenti In un colpo Ciao Io l'ho preso qua Oh Aia Tanica Ah Guardate Prendo un cartello No non l'ho preso No 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 E volevi Tu tantissimo volevi Guarda come lezza Ah Ok Eh forse sono io il lezzo Dai via 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 Mamma mia Vi devono chiamare Per il prossimo film Di Ned for Speed Mamma mia Che intelligenza Oh Casualmente c'è un buchino qua Ah Intanto si vede il pilota Che incira il volante Ah Oh mamma Ma chi sei Hulk Oh Ah volevi tantissimo Mamma mia Le curve perfette Come mi vengono Vai Orco Ehm È una bella Bruttissima cosa Oddio Una si è buttata giù No Eh ragazzi scusate ma Oddio Via 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 Ciao ciao Var che roba Come mi tamponano Oddio Sono uscito vivo Semplice Ingrano la retromarcia E via Qua io passo Cos'è successo Ma sono di nuovo qui Ma come Non vi dispiace Se io passo per di qua E faccio improvvisamente Non volevo Non volevo Scusate Finalmente ragazzi stiamo uscendo Stiamo, questo qua è l'obiettivo della puntata Uscire dall'inseguimento fatto massimo livello 5 Ok, ora bisogna nascondersi Ok 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 No, 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 questa cosa non va benissimo Non va bene, non va bene, non va bene Ciao, 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 ciao Oddio, posso? Oddio, cos'è? Come? No, ma io adesso ho paura che venga fuori un pedone Oh, oh, oh Ah, più semplice del previsto Io mi metto qua Cosa succede? Non credo che la prossima 12 Lì si è fatta per lo sterrato Infatti Oh mamma Sono 20 minuti che scappo da voi Cavolo Ah Oddio, ho sentito un Blade Blade Che cosa faccio? Che cosa? Sono diventato un Blade Blade improvvisamente Ora lo scopo è correre tanto Correre tanto Perché loro hanno macchine grosse ma lente Ragazzi, non so Penso proprio che ormai la mia macchina non si chiama più Porsche 911 3.0 Ma si chiami Porsche trittata 3.0 Però vabbè E addio Addio in quel senso Mamma Cosa ho fatto? Cos'è sta roba? Oddio Ma non credo che il motore ce la faccia più Però vabbè Pazienza Vai Oh mamma Mi ha battuto lei Vabbè Hai vinto Hai vinto Mi dispiace Sbaramenti A caso Passo qui Mamma mia Manco Ken Block Grandissime Adoro queste macchine Nello sterrato ragazzi Ken Block Posso l'accompagnare Uiiii Vola Ragazzi Devo non fare qualcosa Per questo effetto serra Perché volano pulizie ovunque Oh mamma Vedi qua Ma neanche Fast and Fool Fanno ste cose Ma cos'è? Dai 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 Sì, 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 no, 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 sì, 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 è entrata dentro un container Vai Grande, ti ha... Che cosa è successo? Stavo frenando e lei mi ha aiutato a saltare Eh, ciao Devo... ma devo salutarvi o fate voi da sole? Devo durare l'inseguimento, perdonatemi Posso chiedere? Non so una volta iniziato se si può finire una cosa del genere, però... Oh mamma Aia Bugatti a caso, grazie L'ho già detto con la macchia da sterrato? Ok Vai, 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 vai Tac Oh mamma Ciao Ti stavo aspettando Dai, 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 facciamo una cosina strana Tipo questa Giù Ma qui da dove è iniziato tutto? Ma ciao La Porsche può fare le scalinate? Sì, la Porsche È ufficiale, la Porsche può fare le scalinate Ammortizzatori sono andati a farsi benedire, però vabbè Ragazzi scusate, sono stanco Mi sono preso la Audi R8 GT Spider E sta qua con più della Bugatti E voglio seminarle, appunto Mi hanno spezzato il paraurti Mamma mia Mamma mia Tremenda come macchina questa Ma no, ma no, ma no Basta Sì Sì, 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 sì Sì, 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 tantissimo Godo, godo, godo come un riccio, ragazzi Scappa, scappa Oh ma dai, ma mi dovete sempre trovare Mamma Posso scappare, vi scongiuro Vi fate scappare una volta per tutte Forza Oh mamma È stata la cosa Credo più faticosa dell'universo Spero che questo video vi sia piaciuto Noi ci vediamo alla prossima Consigliatemi nei commenti Quale macchina da usare Per il prossimo evento Diciamo per il prossimo inseguimento Se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel like Grazie Noi ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi